Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti su The Nemesis. Io sono Deborah Martino e questa sera vi accompagnerò per la prossima mezz'ora ospiti di un fantastico mondo virtuale per dare il via al nostro primo evento in diretta live streaming del 2021 su The Nemesis, grazie anche alla collaborazione con Defiantarmi. Se vi siete collegati da mobile con il vostro telefono potete seguire la diretta, ma se avete un computer sotto mano io vi consiglio, accendetelo subito, collegatevi utilizzando un browser Chrome o Firefox per godervi appieno l'intero evento. Infatti avrete a disposizione un avatar con il quale potrete esplorare il mondo virtuale, potete interagire anche con altri avatar, con altri utenti che come voi stanno partecipando all'evento e pensiamo che questo possa essere ancora più speciale in un periodo di distanziamento sociale come quello che stiamo vivendo. Se siete collegati da un computer potete anche votare il vostro artista preferito fra gli artisti che questa sera io vi presenterò. Sono tre artisti emergenti della musica, del panorama musicale italiano. Mi raccomando rimanete con noi fino alla fine perché la votazione dell'artista preferito si farà soltanto quando tutte le esibizioni si saranno concluse. Non è tutto, oggi faremo anche la premiazione del giocatore, del vincitore della challenge di Natale, però adesso occupiamoci di musica, lasciamo spazio ai nostri artisti. Io vi voglio presentare La Via, P-Trash e 18G. Colleghiamoci subito con loro che sono in studio e ci stanno aspettando. Ciao ragazzi, benvenuti su The Nemesis. Ciao ragazzi, siete carichi? Carichissimi, pronti. Allora io sono molto emozionata, questo è un evento speciale, voi siete protagonisti insieme a me di una novità assoluta. Speriamo che possa rivoluzionare il mondo dell'intrattenimento in futuro grazie alle esperienze virtuali. Vi va di iniziare allora? Siamo pronti, siamo pronti. Perfetto, allora direi di cominciare con La Via. Andia, tu sei detto anche Zwei, lui è un cantautore classe 96, è un rapper, sei cresciuto a Milano, nella periferia di Milano. Sì, Milano, Cesano Boscone precisamente in provincia. Cesano, ok. Molti di noi lo conoscono. Un saluto agli amici di Cesano Boscone. Il tuo è stato un contesto fortemente influenzato dalla cultura di strada, dall'hip hop, dalla musica rap. So che hai debutato nel 2017 con un gruppo artistico, si chiamano i classe 96. Sì, esatto. E ad oggi hai all'attivo dieci brani, la tua famiglia. Hai all'attivo dieci brani e otto video ufficiali. Questa sera che cosa ci presenti? Allora, questa sera vi porto... Allora, innanzitutto volevo anche ringraziare gli amici di The Nemesis che sono collegati con noi e defiantarmi per il merch, perché comunque in tempi di Covid un'iniziativa così è una gran figata, quindi grazie veramente per l'opportunità. Grazie a voi che ci avete reso possibile. Stasera vi porto Quello che mi va, che è il mio ultimo singolo in uscita. È uscito un mese fa, l'ultimo brano del 2020, che anticipa tutto quello che uscirà nel 2021. Sta lavorando al mio primo progetto da solista, il mio primo EP, e non vedo l'ora che esca per farvi sentire che cosa ho in serbo e tutto quello che ho da dirvi. E allora noi ti seguiremo. Intanto che tu ti prepari per la tua esibizione, io presento il tuo brano ed ecco a voi la via con Quello che mi va. Vai, mandala. Ehi, ehi, ok. La via is the way nel posto. Ah. Cosa voglio fare ancora? Non lo so. Come stare bene ancora? Non lo so. Spezza le catene della mente, apri le finestre, sposta quelle tende che entra al sole piano piano. Passano più lente le ore quando non c'è amore. Sei nelle mie strade, c'è la gente col valore. Lotta contro tutti come un gladiatore. Sai, per non pensarci non basta una pussi in un moderato e... Una sessione di meditazione, farsi due week in Giappone. Passa la tua vita, cerca dentro te stesso. Un senso che non ha sbuffare questo fumo al vento, stare solo fuori al freddo quando c'è il maltempo. Quando sei con gli altri, bro, ti senti solo. Hai una croce in spalla, zero corona dall'oro in capa. Interdimensione, ignota la NASA. Qui ritrovo il centro, l'equilibrio che mi manca. Tutto quello che mi va di fare adesso. Forse sai, non voglio farlo. Tutto quello che mi va di dirti adesso. Forse non lo sto pensando. E non ci penso più nella vita mia. Vivo un po' come mi pare. Come? E non ci penso più. Ora che sei andata via, non ha più senso parlarne. Ed è per questo che se parlo poco, mi esprimo a mio modo. Ma con te, beh, vado dritto al sodo. Questa musica è l'idioma. Bomba e nella lemon soda. E stiamo fuori a notte fondo. Possiamo scopare un'altra volta. Mi hai già tolto la voody. Rendi i miei tormenti come questi corpi nudi. Nei momenti no, sbattevo i pugni sopra i muri. Nei vicoli bui ci sentivamo più sicuri. Facciamo cose che non fai il tuo nuovo boy. Nella giungla urbana savage boy. L'abitata, la casa e strada punk a mille joint. Voglio la rivalsa per me, i miei fratelli. Per tutta la gente che ha sofferto come noi. Buttavo sangue nei campi da calcio. Ma sei non ne valsa più di tanto. Ora non perdo più tempo. Se lo perdo è perché sto scappando. Dove? Chi non lo so. Ehi. Svoi sei anni da dentro me. Non posso evitarlo. Tutto quello che mi va di fare adesso. Forse sai non voglio farlo. Tutto quello che mi va di dirti adesso. Forse non lo sto pensando. E non ci penso più nella vita mia. Vivo un po' come mi pare. E non ci penso più. Ora che sei andata via. Non ha più senso parlarne. Vivo un po' come mi pare. Non ha più senso parlarne. Tutto quello che mi va di fare adesso. Forse sai non voglio farlo. Forse sai non voglio farlo. Tutto quello che mi va di dirti adesso. Forse non lo sto pensando. E non ci penso più nella vita mia. Vivo un po' come mi pare. E non ci penso più. Ora che sei andata via. Non ha più senso parlarne. Non ha più senso parlarne. Wow. Complimenti la via. Grazie. Grazie. È stata una bellissima edizione. Grazie a tutti. Continueremo a seguirti sui tuoi canali social. Instagram, la via is the way e Spotify. Esatto. Grazie a tutti. È stato un piacere essere qua. Grazie a te. Lascia il posto al secondo artista. Lui è P. Trash, classe 99. Ciao, benvenuto. Tu sei nato a Palermo, ma stai cresciuto a Milano. Hai iniziato da giovanissimo a comporre i tuoi primi testi. E a 14 anni hai pubblicato anche i primi brani. Sei attivo nella scena rap emergente milanese e palermitana. Esatto. Che cosa ci presenti questa sera? Stasera porto un pezzo che è stato molto importante per me, che mi ha dato diverse soddisfazioni. Il pezzo si chiama Amore e Odio. È uscito un po' di tempo fa. E sono contento di essere qui stasera a poterlo proporre. Quindi è un po' il tuo cavallo di taglia. Esattamente, esattamente. E noi non vediamo l'ora di ascoltarlo. Allora sentiamo P-Trash con Amore e Odio. Grazie. E io ti cerco ancora fra le mie lenzuola. Però non ci sei, però non mi vuoi. Avevo il cuore in gola quando arrivavo a Roma. Ora non so chi sei, noi non siamo più noi. E ora per te ho perso la ragione. Se ti vedo con lui che lo baci in tutte le storie. E in sottofondo avete messo la nostra canzone. Io che scrivo parole ricordo quando è come. Tu mi dicessi, resta con me. Che tu saresti rimasta. Io avrei vissuto con te, ma la mia testa ha detto basta. Perché tu amavi me, io ti amavo perché eri pazza. Sì, proprio come me, ma per te non ero abbastanza. E se penso ogni momento mi manca. Solo in quella stanza, col tuo cane che guarda. Mentre il letto ballava, tua madre mi adorava. Passati d'amore a odio, preferisce quello nuovo. Perché lo è meglio di me. Eeeh, di me, ok. Ti ho dato il peggio di me, ma. Anche il meglio di me, ok. E l'animo peggiora, se ripenso ancora. Che qua tu non ci sei, che ora ridico lui. Io passo i giorni in coma, st'amore mi imprigiona. Chiudo gli occhi miei, vivo momenti bui. E non mi dire che il mio non è l'amore. Sai che ho fatto un errore di tutto per rimediare. Non volevi che uscissi come se fossi in prigione. L'unica soluzione è stata lasciarti andare. Tu mi dicessi resta con me, che tu sarassi rimasta. Io avrei vissuto con te, ma la mia testa ha detto basta. Perché tu amavi me, io ti amavo perché eri pazza. Sì, proprio come me, ma per te non ero abbastanza. E se penso ogni momento mi manca. Solo in quella stanza, col tuo cane che guarda. Mentre il letto ballava, tua madre mi adorava. Passati d'amore a odio, preferisce quello nuovo. Perché lo è meglio di me. Perché lo è il meglio per te. Ed io ti ho dato il peggio di me. Ma anche il meglio di me. Di me. Complimenti, adesso ho capito perché è il tuo cavallo di battaglia. Molto bella questa esibizione. Grazie mille, grazie mille. Sono veramente contento di aver potuto avere questa opportunità. e di aver portato questo brano che per me è stato importante. Magari ti rivedremo al prossimo evento su The Nemesis. Dipende da quanti partecipanti all'evento ti voteranno. Continueremo comunque a seguirti. Grazie Pitrash. Grazie, grazie. Faccio pure il posto al nostro terzo artista. Lui è 18G. Da adolescente, da molto giovane. Ciao, benvenuto. Anche tu hai iniziato prestissimo a pubblicare i tuoi primi brani su YouTube. Hai debuttato nel 2017 con i Classe 9.6. Ma soltanto l'anno scorso, nel 2020, hai pubblicato il tuo primo singolo su Spotify. Sì, esatto. Il primo singolo su Spotify è 100.000 e adesso uscirà roba nuova. Stasera porto un brano nuovo, ma si discosta un po' dalla roba che ho fatto. Nuova, quindi per non spoilerarvi niente, appunto. Bene, quindi godiamoci questa novità. Il titolo del tuo brano è Star e tu sei 18G. Stai in un fotto con la trap 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 Parlo zero così bla 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 Sono fuori dai radar Perché lo stiamo facendo star star Sto spiccando nel cielo Sto tagliando l'universo Questa notte una star star Mi parla nell'orecchio Tiro da tre punti, siamo all'NBA Le ho detto ti amo, mi hai risposto ok Non ci puoi vedere, siamo nel backstage Fate come Anzi Tu un po' meno come Rage Quella tipa ti fa l'occhiolino Resti l'impallato come un manichino All'amore mostro il terzo dito Sono l'assassino del nuovo omicidio Del vecchio omicidio sono io la vittima Lei dice che balla e non sa un cazzo di ritmi Le scopo tutte come sono messe in fila Dico becifi, danziamo solo se sei ricca Giralde Club, siamo ad Atlanta Mentre lei è 90 Perfondo i weed nella stanza Suonano soldi in tasca Siamo in Alaska, in Italia Se non fott'o con la trap, trap, trap Parlo zero così bla 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 Sono fuori dai rap, dar, dar Perché siamo star, star, star Se non fott'o con la trap, trap, trap Perché siamo star, star, star Parlo zero così bla 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 Perché sono fuori dai rap, sei in un foto con la trap, trap, trap Parlo zero così bla 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 Sono fuori dai rap, dar, dar Perché lo stiamo facendo star, star Sto spiccando nel cielo, ah Sto tagliando l'universo, ah Questa notte una star, star, star Mi parla nell'orecchio, ah Se non fuori dai rap, dar, dar Parlo zero così bla 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 Sono fuori dai rap, dar, dar Perché lo stiamo facendo star, star Sto spiccando nel cielo, ah Sto tagliando l'universo, ah Questa notte una star, star, star Mi parla nell'orecchio, ah Anime rock su quella panca Merce che trappa Solo sul palco Tu con gente che canta Mille come spedizione Sono in un acquario Mi sembra un oceano È la prospettiva fre Mi fa vivere il disegno fre Oggi sono spento fret off Mai fatto di croc Ma fatto di smoke Dalle popolari all'off Trovo il mio scopo In questa earth John Locke Faccio tardi per la fretta Mi detesta Quello vuole una secca You La scarpa è fresh, you Il tuo outfit retro Le notti in bianco Soldi in testa tipo shampoo Con le balliamo commerciali Con loro take out Sono fatto come un animale Mi perdonerai Se non ci sarai Faremo festa lo stesso Sei un fotocola trap, trap, trap Parlo zero costi bla 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 Sono fuori dai radar Dar Perché lo stiamo facendo Star star Sto spiccando nel cielo Ah Sto tagliando l'universo Ah Questa notte una star 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 Mi parla nell'orecchio Ah Yeah Ringrazio Cesano Bosco Nel mio quartiere Milano Yeah Grazie 18G Se queste sono le premeste Chissà che cosa ci aspetta nel 2021 Per tutte le novità che hai in serbo per noi Roba fresca sicuramente Ringrazio voi del game E niente E gli utenti che stanno partecipando E stanno continuando ad entrare Stai chiedendo delle votazioni Chiamerei ragazzi Ok Allora a proposito di votazioni Grazie a tutti gli artisti che si sono esibiti Le performance sono terminate E è arrivato il momento di votare il vostro artista preferito Quindi per tutti gli utenti che sono collegati con il computer In questo momento Sullo schermo potrete vedere un messaggio che vi invita ad esprimere la vostra preferenza Ogni numero corrisponde ad un artista Potete premere digitare 1 se volete votare per la via Potete digitare 2 se volete votare per p-trash Potete digitare 3 se volete votare per 18G Mi raccomando Il vincitore potrà avere la possibilità di esibirsi nuovamente su The Nemesis All'interno di un mondo virtuale Per un evento esclusivo dedicato interamente alla sua musica Quindi è un'opportunità molto importante Votate bene perché è importante soprattutto per i ragazzi Mi raccomando Per chi è collegato con il computer Non perdetevi la possibilità di fare un giro Sulla piattaforma quando finirà questo evento Potete andare direttamente sulle arene di gioco Per provare appunto i giochi di The Nemesis Potete visitare una galleria di criptoarte Oppure potete andare a vedere il nuovo store di DeFiantarmi Che ci ha permesso di organizzare questo evento Io darei Stoperei la votazione Noi conosciamo già in diretta il nome del vincitore Però io voglio tenervi sulle spine Quindi intanto ho deciso che ve lo svelo più tardi E invito in diretta con noi Fabio Che è il vincitore della Spidant di Natale Vi ho parlato di una challenge Che è rimasta online su The Nemesis Dal 24 di dicembre Si è conclusa proprio oggi a luna Fabio è stato il primo, il più bravo Il vincitore, il più veloce Ciao Fabio, benvenuto Fra tutti i giocatori Sono state giocate migliaia di partite Però tu te la sei cavata Eh, meno male E hai vinto anche un bellissimo premio Adesso ci devi svelare in retroscena però Quante partite hai giocato? Eh, allora Quelle segnate una settantina Però diciamo che ci sono anche partite non segnate Ovvero che di ricaricamento pagina Diciamo che ti stavi allenando per essere migliore Erano partite di prova Ok dai, si chiamano così, partite di prova Che cosa fai nella vita? Sei un giocatore professionista? No, magari Eh, ci provo Eh, faccio abbastanza schifo Però vabbè, gioco fin da quando ero piccolo Quindi niente Eh, la mia passione è videogiocare Quindi ogni tanto dai Bene Su The Nemesis ha anche la possibilità di vincere Bellissimi premi Per te una bellissima tastiera Logitech G213 Prodigy Mi raccomando Noi te la spediamo in pochi giorni Appena ti arriva ci fai una foto Così la postiamo sui nostri social Chi è stato il tuo artista preferito della serata? Eh, ho già dato il mio voto Eh Allora Non me ne vogliono Non vuoi dire? Se gli altri due non se la prendono poi con me Io ho votato la via Benissimo Dai, vedremo se il tuo voto sarà servito a farlo vincere Io ti ringrazio Fabio Continua a giocare su The Nemesis Grazie a voi Ciao Allora ragazzi Siamo giunti alla fine del nostro evento Concludiamo ringraziando tutti gli artisti Che hanno partecipato alla nostra prima diretta live streaming Su The Nemesis E adesso sveliamo il vincitore Rulo di Tamburi Il vincitore di questa serata Il più votato è La Via Congratulazioni La Via Allora il voto di Fabio è stato determinante forse Grazie Sei emozionato? Sì Sì, sì, devo dire di sì Ok Non me l'aspettavo Devo essere sincero Vuol dire che la tua community ti ha premiato? Ti vedremo presto su The Nemesis Per un nuovo evento in diretta live streaming Interemente dedicato alla tua musica Intanto io ti ringrazio Ringrazio anche De Fiantarmi Grazie a voi Per la collaborazione Grazie a voi, grazie a voi Ci vediamo alla prossima Mi raccomando Grazie per avermi votato Continuate a seguirci Continuate a seguire i nostri canali social E rimanete su The Nemesis Nelle prossime settimane abbiamo interessantissime novità tecniche Ci sarà il rilascio della nostra versione mobile Con cui potrete giocare dal telefono È una cosa molto interessante E vi ricordo anche che periodicamente noi lanciamo delle challenge bellissime Che vi danno anche la possibilità di vincere premi fantastici Come quello che ha vinto Fabio questa sera Io intanto vi ringrazio Vi invito a rimanere su The Nemesis Per esplorare i nostri mondi virtuali E un saluto a tutti Da The Nemesis Ciao